Il lavoro per la forestale non finisce mai. Durante un controllo sullo stato di usura dei piloni autostradali A25, sulla scarpata della strada comunale Sant'Angelo a tocco da Casauria, i militari hanno rinvenuto e sequestrato materiali inquinanti tra cui 25 lastre di ethernet contenente amianto, materiali di imballaggio in cartone plastica e altre sostanze dannose per l'ambiente, tutti nascosti sotto la vegetazione. Avendo trovato tra i rifiuti, spiega il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, dei particolari riferimenti additto a persone, ci aspettiamo di trovare i responsabili di questa ennesima violazione del decreto ambientale del 2006. La procura di Pescara, non avendo ancora individuato i responsabili, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti e, inoltre, i materiali inquinanti sono ora stati posti sotto la custodia giudiziaria del sindaco di Tocco da Casauria.